Incentivare una vera riconversione ecologica della città, non solo attraverso la riduzione delle emissioni, ma soprattutto con la produzione di energia pulita. Lucca ha tutte le potenzialità per puntare sulle energie rinnovabili, che sono la vera soluzione ai rincari odierni. È questo il nodo cruciale dell'intervento dell'eurodeputata Eleonora Ivi, coportavoce nazionale di Europa Verde, arrivata a Lucca per sostenere il candidato del centro-sinistra, Francesco Raspini. Nella sede elettorale di Via Calderia, alla presenza anche del portavoce regionale del partito, Ero Stetti, l'eurodeputata ha spiegato perché sia fondamentale il radicamento sul territorio degli ecologisti e delle loro battaglie in nome dell'ambiente, che possono trovare concretezza solo mettendo a frutto gli input europei. Noi siamo molto felici come Europa Verde in questo momento di essere presenti qui in questa coalizione, ci stiamo presentando, qui lo dico anche con uno sguardo più nazionale, in moltissimi comuni che vanno al voto in tutta Italia, molto spesso con delle coalizioni di questo tipo, quindi progressiste nel campo del centro-sinistra, abbiamo le idee molto chiare, saremo anche un pungolo, uno stimolo affinché le questioni ecologiste vengano sempre tenute in considerazione, e quindi siamo fiduciosi però che il lavoro già fatto fino ad oggi potrà essere portato avanti con Francesco Raspini qui a Lucca.